E' proprio lei Miele e Miele che abbiamo seguito a Sanremo, l'abbiamo sentita in quei giorni e oggi ce l'abbiamo qui con noi, buongiorno e benvenuta cara, come stai? Adesso molto bene E' stata una settimana pazzesca Sì, assolutamente Che ti ha preso un sacco di energia perché poi è veramente una macchina incredibile, un vortice, stai come entrare in un frullatore e poi succede di tutto Da cosa vuoi cominciare a raccontarci? Sì, ma guarda, non so da dove partire, ti devo dire che davvero tutti mi avevate detto che sarebbe stato un frullatore, un calderone, quindi sarebbe stata una settimana molto particolare Ovviamente mi ero un po' preparata a quello che poteva succedere, però sono successe delle cose che non potevo nemmeno immaginare Quindi ringrazio anche l'adrenalina che poi uno si porta dietro, che ti aiuta a gestire poi quella settimana al migliore dei modi Poi c'è quella fase in cui un attimo ti riposi appena torni a casa Sì, infatti noi poi volevamo subito sentirvi il lunedì, però tutti hanno preso tipo 24 ore di sonno Assolutamente Il lunedì non è stato possibile sentire nessuno, ho finito il festival Beh, tu eri venuto a trovarci prima, ti abbiamo sentito durante e appunto ti sentiamo dopo Probabilmente il festival è un percorso di crescita che uno fa in una settimana, quello che se non fai il festival devi fare tipo in un anno Cioè proprio anche a livello personale forse, no? Gestione delle emozioni intime Sì, condivido Quella settimana comunque è qualcosa che ti forma in una maniera assurda Entri davvero a contatto con tante cose che impari sul campo, c'è poco da fare, soprattutto per chi sta iniziando a fare questo percorso Saremo sicuramente una settimana molto particolare, un po' inconsueta diciamo Però è anche bella e interessante perché hai la possibilità di raccontare la tua storia E io ringrazio sempre le radio, ci tengo a dire questa cosa È una settimana ma in generale anche la parte prima diciamo di Sanremo In cui si corre, si arriva stanchi la sera, non se ne può più Però hai la possibilità veramente di raccontare la tua storia Ed è bello sapere che ci sono delle radio che sostengono la musica emergente E beh Cassita, noi ci diamo un grande affare su questo fronte Allora, molti ragazzi che hanno partecipato a Sanremo Giovani ci hanno proprio detto Basta con questo meccanismo uno contro l'altro Poi la musica non è una canzone contro l'altra Cioè una canzone può piacere, a uno può non piacere Però dovrebbe essere formulato proprio in maniera differente L'anno prossimo probabilmente lo farà ancora Carlo Conti Speriamo che tenga conto anche di tante cose Che Conti tenga conto Perché è un meccanismo che non ci piace Quello che i giovani si debbano scontrare così in maniera brutale Guarda, sì, la penso come te È stata una buona scelta quella di far sentire già i brani Prima dell'inizio del festival Soprattutto per i giovani Quindi la possibilità di far sentire la propria musica Lo scontro diretto proprio quando si parla in termini di musica è un po' fastidioso Perché poi ognuno porta la propria storia che è differente Ed è difficile dover dire Va avanti questo piuttosto che l'altro Forse il sistema di televoto diciamo Ecco poi lo ricordiamo perché insomma Emile è proprio la ragazza che ha avuto C'è stato quel problema di sbaglio del conteggio in sala stampa E quindi tu pensavi di aver passato il turno Poi invece l'ha passato Gabbani che ha vinto il festival E poi tra l'altro l'abbiamo sentito E lui è dispiaciutissimo di tutto quello che è successo Ci ha detto che invece siete molto uniti Insomma che questo non cambia Non ha cambiato le cose Ecco vabbè però tu hai comunque cantato il venerdì Sì E poi per esperienza nel mondo dello spettacolo tipo di 30 anni Ti posso dire che l'importante è che se ne parli Cioè si è parlato talmente tanto di te Che si è parlato più di chi ha vinto E perciò questo è quello che poi conta Non rimanere nella testa delle persone Allora adesso parliamo di Occhi Il disco tu ci avevi accennato quando sei venuta a trovarci prima del festival Adesso però abbiamo in mano proprio questo cd Dai raccontaci tutto di quello che hai messo qui dentro Occhi è un pochino la mia storia artistica, musicale ma anche personale C'è tutto quello che ho fatto fino adesso con la musica Parla di me in generale Ho deciso di chiamarlo Occhi perché penso che la mia attività da cantautrice Si è iniziata quando ho avuto il coraggio di scrivere questa frase Troverai i miei occhi magari meno storti E proprio mentre ti parlo Perché ho sempre avuto un rapporto un po' particolare col mio sguardo Il mio sguardo l'ho considerato anche un punto debole Mi ha sempre messo in difficoltà Però nello stesso tempo sono molto legata al mio sguardo, il mio sguardo e il mio orgoglio E volevo fare proprio un omaggio ai miei occhi affinché diventi un punto di forza a tutti gli effetti Adesso ascoltiamo qualcosa di questo pezzo C'è tra l'altro anche il grande figlio di puttana Che è una cover, gli stadio che hanno vinto il festival Vi siete anche incontrati durante i giorni di festival Eh sì, lì c'è una storia un po' particolare Perché io amo questa canzone L'ascoltavo quando ero piccola Mi diverte tantissimo cantarla Nel momento in cui ho avuto la possibilità di fare un disco Volevo assolutamente inserirla Perché fa parte dei miei gusti musicali E quindi della mia storia musicale E così ho deciso di mettere questa canzone all'interno del disco Successivamente scopro che gli stadio partecipano al festival di Sanremo E successivamente scopro che sia il brano degli stadio in gara Che il mio, mentre ti parlo Portano la stessa tematica Ovvero un rapporto padre-figlia Visto però da due punti differenti Io racconto proprio il punto di vista della figlia Mentre gli stadio raccontano, diciamo Parlano di un rapporto dalla prospettiva del padre È stranissima questa cosa Hai avuto la possibilità di parlarne con Gaetano? Guarda, molto velocemente perché proprio ci incontravamo Tra un'intervista e un'altra Ogni volta che lo vedevo volevo proprio avvicinarmi Però sì, lui ha conoscenza di questa cosa È una strana coincidenza Tutti e due su quel palco lo stesso feste Mi ha fatto piacere salutare Sì, non ci voleva questa cosa Io direi che a questo punto l'ascoltiamo Grande figlio di puttana nella versione di Miele dall'album Occhi È proprio lei Miele dal festival di Sanremo Giovani 2016 Ci ha portato il suo disco Occhi che contiene anche Grande figlio di puttana Questo strano link con gli stadio che hanno poi vinto il festival Tutte e due avete portato quest'anno la tematica dei rapporti padre-genitori figli Insomma, genitori figli Allora, torniamo al disco Dai, la musica Raccontaci tutto Poi ci sei tu che usi una Olivetti Sì, una vecchia macchina Sì, letteralmente due Che è stranissimo per una ragazza giovane super tecnologica Questa la uso ancora io Guarda, ti devo confessare che non sono super tecnologica Che ho veramente difficoltà a usare i social in generale Schiva un po' schiva anch'io, sono così Ho difficoltà, capisco che è un buon modo per restare in contatto poi con chi ti segue Ed è giusto condividere delle cose con la gente che ti sta sostenendo Non deve diventare uno stress Mamma mia attiva in qualsiasi momento, in qualsiasi istante Certo Però ti devo dire che in generale il mio approccio anche alla musica Quando devo scrivere delle cose per me resta la carta e la penna Anche perché mio padre ha una tipografia Quindi io sono cresciuta in mezzo alla carta Anche se poi si è evoluto tutto Ci sono un sacco di macchinari che hanno sostituito i vecchi caratteri Proprio tipici della stampa tipografica Però sono fortemente legata alla carta e al fisico Quindi sono contenta che oltre a vedere che ho iniziato a trovarsi pure in forma digitale Sono felice di avere proprio un oggetto fisico Quindi di avere un disco fisico, una versione fisica del mio album Questa macchina è tua? No, questa macchina mi è stata prestata da un amico Per le foto Sì, sì Bellissima E quella, lo diciamo per quelli che hanno la mia età È il color verde oliva Perché c'era verde oliva e c'era carta zucchero Io ho quella carta zucchero No, mi piacciono queste cose un po' vintage Senti, invece il simbolo del gomitolo? Diciamo che ho ripreso tutto quello che c'è all'interno del videoclip Il videoclip è stato realizzato da due grandi amici ma professionisti Che volevo salutare Sono Andrea Marchese e Alessia Abate E mi hanno aiutato a realizzare il video Ma anche a realizzare il messaggio che volevo dare nel video Io nel video sto scrivendo A un certo punto c'è questo filo rosso che mi impedisce di scrivere Volevo dare questo messaggio Poi alla fine riesco a, diciamo, liberarmi da questo filo Il fatto appunto di voler a tutti i costi Continuare a fare quello per cui si sta lottando Che può essere la propria passione Il proprio mestiere Un'esperienza della propria vita Anche al di là è contro chi cerca di impedirselo Questo era un pochino il messaggio che volevo dare Usando pochi colori Quindi il nero, il rosso e il bianco Ci sarà un tour adesso? Stiamo lavorando per organizzare un tour Fare un po' di promozione E io voglio suonare Quindi sì Ci sarà sicuramente dai Che bello Senti, dovendo esprimere un desiderio così a caldo Nella tua carriera cosa ti piacerebbe? Un altro sarebbe? Guarda, sicuramente mi piacerebbe avere, comunque entrare a contatto con gli stadio E quindi avere la possibilità, non lo so, di aprire i loro concerti Magari Lancia l'universo Però in generale quello che sta succedendo è già una parte del mio sogno Comunque le mie ispirazioni Spero fra trent'anni di svegliarmi e di dire che bello sto facendo quello che effettivamente volevo fare nella vita Che non è poco Sì, assolutamente Forse sto E poi che ci riescono No, no, devi mirare giusto Tira l'arco e lancia la freccia Bene, è stato un grande piacere averti con noi Ricordiamo occhi l'album E adesso sentiamo anche Mamma non mamma Giusto due parole su questo pezzo? Sì, questo è un brano strano Era un periodo in cui proprio avevo forse delle confusioni strane in testa E anche nella musica c'è stato un momento di esperimenti, diciamo Ed è nata Mamma non mamma Che è uno dei brani di cui proprio vado molto fiera E molto libero anche nella scelta dei suoni Penso che sia proprio quello che mi rappresenta maggiormente L'ascoltiamo e ci salutiamo Grazie mille, un bacio Grazie a te E torno a trovarci presto